Una marcia per l'ospedale del Casentino per richiedere il ripristino dell'urgenza chirurgica. È tutto pronto per la grande manifestazione organizzata dal Comitato Salute Casentinese che prenderà avvio sabato mattina alle 9.30 dall'ospedale di Bibiene e proseguirà poi con una marcia per concludersi in piazza Tarlati dove sono in programma vari interventi. Parteciperà all'iniziativa anche Feder Consumatori di Arezzo. Noi pensiamo che un'associazione, i movimenti in generale ma tutte le organizzazioni di massa avrebbero il compito di partecipare a una cosa di questa natura perché va al di là anche degli aspetti di merito della legge di riforma approvata dalla regione toscana. Qui c'è un disegno che in qualche modo si sta portando avanti, che è un disegno di impoverimento del territorio, delle strutture ospedaliere di prima accoglienza, di primo intervento nel territorio e in un territorio disagiato come quello del Casentino questo è un vero problema e noi ci sentiamo di partecipare appoggiando questa iniziativa perché sarebbe non compressibile un'associazione di tutela dei cittadini come Feder Consumatori non avesse a cuore un problema di questa natura. Noi condividiamo le preoccupazioni espresse dal comitato che sono espressioni della difficoltà e delle perplessità del territorio. Ricordiamo che il Casentino è zona disagiata, depressa, hanno una viabilità estremamente limitata che ha sempre causato problemi e l'eliminazione della chirurgia d'emergenza pone veramente grandi problemi alla popolazione del territorio. È una richiesta d'aiuto che la Feder Consumatori non può non accogliere.